la zuppa inglese racchiusa in un guscio di pasta sfoglia caramellata questo è il classico rumore che dovrebbe fare una pasta sfoglia quando la cottura è perfetta partiamo dalla crema versiamo in un pentolino tutti gli ingredienti li mescoliamo bene e la facciamo addensare a fuoco medio a fine cottura uniamo un pizzico di sale dividiamo la crema in due parti e in una delle due ci versiamo il cacao lo facciamo assorbire e ogni tanto gli diamo la mescolata mentre aspettiamo che la crema si raffreddi cuociamo la pasta sfoglia spolveriamo un cucchiaio abbondante di zucchero a velo su un foglio di carta forno sopra ci adagiamo la pasta sfoglia e la ricopriamo con un altro cucchiaio di zucchero e il secondo foglio di carta forno va bene anche quello che esce dalla confezione copriamo il tutto con una teglia e la cuociamo questo tipo di cottura le permetterà di gonfiarsi e di cuocere in maniera uniforme su tutta la superficie risulterà molto più croccante e l'interno viene uno spettacolo quando tutto sarà ben freddo aggiustiamo i bordi e la tagliamo a metà gli scarti li puoi anche congelare ed usare per farcire dei dolci al cucchiaio mettiamo il primo strato di sfoglia su un vassoio lo ricopriamo con la crema al cioccolato e con i biscotti imbevuti velocemente nel liquore poi mettiamo la crema alla vaniglia l'altra sfoglia e pressiamo leggermente per compattare la torta e dopo due ore di riposo in frigorifero è pronta per essere servita